Erika! Mettiti a terra! Voglio conoscere il tuo nome! 12 round per una vendetta. Di pure ciao al tuo ragazzo. Danny, siamo sul porcone grido! Ti piacciono i giochi, non è vero? Questo qui si chiama 12 round. Pensa che la sua donna si è morta per causa mia, la ucciderà! 12 round per un gioco mortale sul filo del tempo. Quanto ci resta? Due minuti. Se sbagli, qualcuno muore. Finalmente inizi a capire le regole del gioco. Se indovini, vai allo scontro finale. Io ti troverò, ti darò la caccia e ti ucciderò. 12 round, venerdì alle 21.20. Rai 4